Ciao, ho preso il nuovo singolo album degli Intuit, questo è il davanti, questo è il retro, questa qua è la home version. Ciao, ho preso. Andiamo dopo, perdo il segno. Andiamo. Andi. Andi. Sì, sì, invece adesso... Scusate, no. Ok, prendiamo il CD. Sì, io ho 12 CD fatti a finto disco in vinile. E rientra dentro però. Non rientra dentro. Un problema, facciamo così. Allora, ok. Allora, vediamo la. E non, vediamo qua. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Ok, vediamo. Abbiamo questo che qua c'è il buchino e poi farlo diventare un ventaglio. Rientra. Ok. 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 Ciao. Ciao.